Siamo quello che mangiamo, non esiste proverbio più vero. Il problema qua è che il significato reale è altro. Io oggi ho provato a macinare il grano per produrre la pasta da pane, è stato emozionante ma ci si rende conto quanto a volte diamo per scontato la fatica di pochi gesti, magari un mixer con un bottone. Qua si parla di sostenere il proprio fisico, sostenere la crescita di un bambino e soprattutto riuscire anche a poter sostenere gli eventuali animali o colture che le famiglie possono avere nelle migliori delle ipotesi. Dopo una settimana ho capito che il cibo vuol dire solo una cosa qua, vivere, sopravvivere e questo cambia tutto. Grazie